Hallo, guten Morgen, benvenuti alla, ahimè, ultima lezione di Rennen via Deutsch, livello A1-A2. Prima di passare agli argomenti di oggi, bisogna correggere gli esercizi. In primo caso bisogna mettere i sintagmi tra parentesi nelle frasi, nel giusto ordine, te, camolo. Quindi, wir gehen heute Nacht mit dem Kinder in Schwingbach. Diciamo che il modi-modo comprende strumento, complemento di compagnia, comprende varie cose che non sia un complemento di tempo, un complemento di caso, un complemento di luogo. Ich würde gehen, abends mit dir am Fluss spazieren gehen. Abends e tempo mit dir modo, vabbè compagnia in questo caso, comunque rientra nell'ordine di, nella terza posizione, te, camolo. Am flussi, luogo. Si fai neste Sonntag, wegen der Hochzeit meines Bruders nach Berlin. Nächsten Sonntag, tempo, wegen Fina Bruders, causa. Voi, er ha si la stessa Woche beim Skifahren in der Schweiz erkältet. La stessa Woche tempo, beim Skifahren causa, in der Schweiz, luogo. Vi fai, lestem zoma mit dem von mobil in der USA in Urlaub. Lestem zoma, tempo, mit dem von mobil, modo, strumento, in der USA, luogo. In secondo esercizio bisogna mettere le marche di subordinazione mancanti, conferendo al periodo un senso compiuto. Quindi, la nostra nonna ci raccontava storie quando eravamo ancora piccoli, per divertirci, dopo esserci lavati i denti e dopo esserci messi a letto, mai senza scoprire qualcosa di nuovo, cioè spoilerare, cioè senza mai spoilerare, insomma. In questo caso ci vuole Wend, perché è un'abitudine. Quindi ogni volta che era brutto tempo e non potevamo giocare fuori, la nonna ci raccontava le storie. So, dass wir uns nicht langweilten, così da non annoriarci, quindi la consecutiva, da uns das so gut gefiel, perché ci piaceva tanto, il fatto che ci raccontasse le storie. Obwohl sie immer für Arbeit hatte, nonostante avesse molto da fare, avesse molto lavoro, avesse da lavorare, ci raccontava le storie. Werden sie essen kotte, mentre cucinava, bevor wir haben sie in Bettlingen, prima di metterci a letto. Poi, nel terzo esercizio, bisogna trasformare le frasi in secondarie, a partire dai sintagmi e congenzioni sottolineate. Ich liebe die Berge, weil ich meine Kindheit in Bayern verbracht habe. Werden ich zur Schule ging, habe ich wenige Freundinnen kennengelernt. Wenn du ihn anrufen hast, bist du nervös. Nel momento in cui lo hai chiamato, sei nervosita. Questo perché avrai recevuto qualche brutta notizia o avrai litigato, quindi sei nervoso. Nachdem der Zug verspätung hatte, bin ich weggegangen. Dopo che il treno faceva tardi, me ne sono andata via. Forse non voleva aspettare il treno, quindi... Trotz des regens, haben wir an einem ausflug nach Paris teil genomen. Obwohl es regnete, haben wir an einem ausflug nach Paris teil genomen. Nonostante vi avesse, abbiamo preso parte... Abbiamo... Sì, abbiamo preso parte un'escussione a Parigi. Qua si poteva dire in due modi. Quindi, o mettere dopo, nachdem ich nur selbst koche, wasche ich ab. Oppure, bevor ich abwasche, koche ich nur selbst. Vedete, il verbo separabile var riunito. Rientra tutto nella rechte, clamber, come si tratta di secondarie. Poi, il numero 4. Frasi, diciamo, inventate. Queste sono alcune frasi possibili. Du kommst aus Österreich, weil man dort grüß Gott sagte. O servo, danke. Er fing erst an Sport zu treiben, nachdem er mit dem Rauchen abgehört hatte. Anziato a praticares Poplova, vi smesso di fumare. Sie wollten nicht heiraten, wie sie eine Arbeit gefunden haben. Non si volevano spasare, finché non avessero trovato un lavoro. Du hast viel geweint, nachdem er dich betrogen hat. Eh, grazie. Hai pianto molto, dopo che ti ha tradito. Eh, chi è che non... Rimarrebbe male per una delusione d'amore. O che amicizia. Kommst du nach, sobald du darfst. Vieni qui appena puoi. Wir machen eine Pause bevor wir mit der Arbeit wieder beginnen. Facciamo eine Pause prima di riprendere quel lavoro. Altrimenti, il cervello va in Fumme, non si ottiene niente di buono. Er trank so viel Bier, dass er die ganze Nacht weht hat. Ha bevuto così tanta Birra, che si è sentito male. So, das. Ich sehe fern, während du mit dem Computer spielst. Eh, guarda, televisione, mentre giochi col Computer. Da der Film so brutal war, hat er mir nicht gefallen. Eh, poiché il Film era crudo, brutale, non mi è piaciuto. Als Hans mit der Abfassung des Textes begann, hat er, hat er viele Ideen. Quando è cominciato con la stesura del testo, aveva molte Idee. La lezione di oggi riguarderà lo sport, il tipo di sport, dal dottore, le parte del corpo, le malattie, poi da un punto di vista grammaticale, l'interativo, la forma passiva, che è verbi con preposizione, poi come si esprimono i sentimenti e come si esprimono gli obbunni. Allora, questi sono solo alcuni degli sport che esistono nel mondo. Quindi, schilafen, oppure schifaren, sciare, golf, baseball. Molti sport si dicono, si scrivono e si pronunciano come li conosciamo, insomma. Ice hockey, hockey sul ghiaccio, volleyball, pallavolo, Klettenberg, oppure Bergsteigen, la rampia, come si dice in italiano? Mi viene in inglese in questo momento, climbing, scalare le montagne, insomma. Tennis, wow, questo è bellissimo, drachen, fliegen e deltaplano. Però drachen, significa drago, wow, proprio la Daenerys Targaryen, bellissimo. Basketball e surf, surfare. Per quanto riguarda dal dottore, questo è un tipico dialogo che... una tipica conversazione quando si fa visita al dottore. patiento, patientin e arst, erstin. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag, Frau Blücher. Yeee! Questa è una citazione da Frank Stein Junior. Se non l'avete mai visto, vedetelo perché ho un favolavoro. So, was fehlt Ihnen? Ich fühle mich nicht wohl, mein Kopf tut mir weh und ich habe Schnupfen. Sie sehen richtig nicht gut aus. Vielleicht haben Sie Grippe. Fühlen Sie sich auch kalt? Ja, ich fühle mich ein bisschen kalt. Übrigens habe ich auch Bauchschmerzen und Durchfall. Oh, Mami, ist dann guaii. Ah, das ist der Patient. Jetzt haben Sie Fieber. Hier ist Ihr Rezept. Nehmen Sie drei Tabletten, dreimal pro Tag. Und kommen Sie morgen noch einmal zu mir. Ich werde Sie nochmal untersuchen. Danke, Herr Doktor. Was noch soll ich machen? Trinken Sie mehr Wasser und vergessen Sie nicht die Tabletten vor dem Essen zu nehmen. Ich verstehe. Vielen Dank. Allora, was für Fienen? La typica tate, die Sieur, wenn Sie, wie Sie sagen, was ist das nicht? Das ist das Dottor, weil man sich nicht gut fühlt. Und der Patientin, der Patientin, die Sie nicht gut fühlen. Ich fühle mich nicht wohl. Mi fa male la testa. In tedesco come in inglese, il soggetto della frase, anche in italiano, è la parte del corpo che è coinvolta nello stato, nel malessere. Ich hoffe, tut mir weh, und ich habe schnuppen. Ich habe raffreddure. Sie sind richtig sind nicht gut aus, significa, non si sente, cioè, ausene, apparire, quindi, vedo che non sta bene, tradotto in modo non letterale, vedo che non sta bene. forse ha la febbre, forse ha la febbre, senti anche freddo? Si, mi sento, sento un po' freddo, e poi ho anche mal di pancia e diarrea. Allora, adesso avete la febbre, ecco la ricetta, prenda, o prendete, tre compresse, tre volte al giorno, e domani venite un'altra volta da me, e vi farò di nuovo visita. Grazie, dottore, cosa, devo fare qualche altra cosa, devi bere molta acqua, e non si dimentichi di prendere le compresse prima di tranzo, prima del pasto. Capisco, grazie. Evidenziato in verde, quello che è l'argomento grammaticale della lezione, cioè l'interativo, e in rosso, in blu, in celeste ha segnato le parole inerenti alle malattie, e alle pure, e in rosso le tipiche espressioni che si usano per esprimere il proprio stato di salute. Le parti del corpo sono le seguenti, der Kopf, la testa, die Köpfe, das Gesicht, il viso, die Gesichter, die Stirne, die Stirne, la fronte, das Auge, di Auge, gli occhi, di Nase, di Nase, il naso, das Oa, di Oren, le orecchie, di Zene, di Zene, i denti, del Mund, di Munda, la bocca, del Hals, di Hälse, la gola, questo non riesco a leggere, un attimo solo, ah, da Schien, di Tim e il Mento, di Schulter, di Schulter, la Schiena, le Spalle, di Achse, di Achse, il Höhle, e l'Ascella, di Achse, il Höhle, le Ascelle, di Brust, il Petto, del Rücken, la Schiena, del Bauch, la Pancia, di Boiche, di Taille, di Taille, il Girovita, Poi, di Hande, la Mano, del Arm, di Arme, il Braccio, del Elbogen, di Elbogen, il Vomito, del Finger, di Finger, il Vito, vi ricordate, la Morfema, R, se un sostanzio maschile, neutro, non vuole, vuole il Morfema Zero Attuale, ecco un esempio, poi, das Hande, del Lent, è il Pulso, das Bind, di Bine, è la Gamba, del Schenkel, di Schenkel, è la Coscia, das Knie, di Knie, il Ginocchio, del Knöchel, è la Camiglia, del Fus, di Fus, i Piedi. Quindi, per dire cosa c'è che non va, va a speltine, oppure botuzde, dove fa male, dove fa male. Quindi, ich rise, mi gocciola il Naso, ich nise, scusate, ich bin schwingling, o, ops, scusate, o il, il capogiro, o le vertigini, ich bin erkelt, sono raffreddati, ich habe fiber, oppure grippe, o la febbre, ich habe brecher ice, mi viene da vomitare, ich habe meinen arm, che brucia, mi sono rotta il braccio, anche se in tedesco non si dice, ich habe mich, si usa, semplicemente, ich habe, e poi, la parte del corpo, ich habe, bauchschmerzen, mal di pancia, halsschmerzen, mal di gola, kopschmerzen, mal di testa, ohrschmerzen, orecchie, tutti i nomi compostino, handschmerzen, mi fa male la mano, ich habe, zandschmerzen, mal di denti, un ascesso. Ah, l'imperativo, puoi esprimere una preghiera, kommen Sie bitte hier, un consiglio, trink nicht so viel beer, non bere tanta beer, oppure du sollst, du solltest nicht so viel beer trinken, si, poi, preghiera, consiglio più cortese, ovviamente, con il Sie, würden Sie bitte hier kommen, oppure könntest du bitte, mal dein Buch leyen, mi potresti prestare il libro, du solltest nicht so viel beer trinken, ecco, du solltest mal wieder, wie mein Geh, dovresti andare a nuotare, di nuovo. Poi, l'esortazione cortese, setzen Sie, col Sie maiuscolo, setzen Sie sich doch, mamma mia, a volte è difficile pronunciare, delle parole, con le stesse consonanti, poi, l'esortazione perentoria, Gehre, vai via, vattene. Allora, le forme sono queste qui, con i verbi, ovviamente, l'imperativo riguarda la seconda persona singolare, la seconda persona singolare, la terza, plurale, com, comt, com and Sie. Quindi, praticamente, l'unica, ovviamente, nell'imperativo, a meno che non sia il sì, il soggetto viene omisso, e il verbo va in prima posizione, come nelle domande, sì o no, dove il verbo va proprio in prima posizione, l'unica eccezione, la fa la seconda persona singolare, che, dove cade la st, la desinenza st, e rimane la radice com. Poi, per quanto riguarda il verbo essere, è irregolare, chiaramente, dubis, zai, 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 è così. il verbo avere è più regolare, perché solo nella seconda persona singolare, c'è, c'è la, cade la st, e c'è la b, la radice, insomma. Poi, per quanto riguarda verden, solo la seconda persona, singolare cambia, verde, oppure verde, perché poi vedremo che il verde, è un altro ausiliare, serve ad esprimere il passivo, come anche il futuro, però noi tratteremo il passivo, in questo caso, in questa lezione. Poi, per quanto riguarda i verbi irregolari, abbiamo detto che i verbi irregolari, sono chiamati anche i verbi forti, perché cambiano la vocale, all'interno della radice. Quindi, per esempio, un verbo come leggere, le isen, alla seconda e terza persona singolare, vuole la ie, quindi il cambio della e in ie, in dittongo, e in pratica, l'unica cosa che cambia, da presente indicativo, a imperativo, è il fatto che la seconda persona singolare, ometta solo la t, quindi lis. mamma mia, come piove, come piove, esregnet, e, mentre per il resto, c'è l'est, le isen, si, poi, esen, mangiare, è uno dei verbi più belli della vita, anche esen, alla seconda e terza persona singolare, cambia la vocale, quindi i, però, in questo caso, rimane ist, est, esenzi, man, si, poi, i verbi regolari e forti, sono anche per quanto riguarda la vocale, ora, scusate, una piccola interruzione, allora, i verbi regolari e forti, esistono, anche quando, alla radice, ci sta la lettera, che diventa, a con la di eresi, e, quindi fare, per esempio, do first, her first, qui, come in, come nel, nell'imperativo dei verbi, tra virgolette, normali, vuole la caduta, semplicemente la caduta, della, della desinenza, però, in più, si ritorna, al, al, alla a normale, quindi, in pratica, i verbi forti, che hanno la a come vocale tematica, non, non restano first, cioè, non rimane, quella, quella, quella pofonia, nell'imperativo, ma, si ritorna, alla semplice radice di far, far, per esempio, no, far, fart, far in z, un altro verbo, quelli lì, che, che terminano in, el, el, n, o ar, n, che fanno il, il, cambia la posizione, della e, della l, o della e, della r, quindi, clingle, suonare, tintinnare, clingle, si omette la, la st, e, resta clingle, poi, clindelt, clingenzi, quindi, il passivo, per rendere il passivo, entra il gioco, il verbo, verden, è un verbo forte, perché, vedete, cambia la, cambia la vocale, alla seconda e terza persona singolare, ah, per esempio, il passivo, della forma passiva, vi è questo cambiamento di posizione, quindi, ciò che è soggetto, passa in, passa dopo il verbo, ciò che è complemento oggetto, va prima del verbo, quindi, geschenkt mir dieses Buch, dieses Buch, wird mir von Michael geschenkt, quindi, il soggetto della frase attiva, diventa il complemento d'agento, di caso efficiente, della frase passiva, e il complemento oggetto della frase attiva, diventa il soggetto della frase passiva, da un punto di vista semantico, perché qua si parla di sintassi, con soggetto, complemento oggetto, però da un punto di vista semantico, Michael è l'agente, e quindi l'agente, nella frase passiva, diventa il complemento di, appunto, l'agente, o di caso efficiente, e, 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 dieses Buch, che, nel, mamma mia, mamma mia, mamma mia, e, dieses Buch, diventa il, l'oggetto di cui, NIR, è beneficiario, vabbè, comunque, il soggetto, rimanendo da un punto di vista, citati, il soggetto della frase attiva, diventa il complemento di causa, efficiente, o di agente, della frase passiva, e il complemento del, oggetto della frase attiva, diventa il soggetto, della frase passiva, e come si esprime, il complemento di agente, o di causa efficiente, quando l'agente causa, direttamente lo stato d'azione, in questo caso, con Michael, perché Michael, che mi ha direttamente regalato, il libro, oppure, con Dush, quando l'agente causa, indirettamente lo stato d'azione, espressa dal verbo. Allora, per quanto riguarda, la federal analysis, l'analisi dei campi, la posizione, diciamo, dei vari sintagmi, dei vari costituenti, ovviamente il soggetto, va in porre, di sub, e il verbo Verden, va, che sarebbe, diciamo, l'ausiliare, in questo caso, della frase passiva, va come Dintetram, scusate un attimo, mamma mia, e ne arriva una tempesta, come l'ultima volta. Dunque, dicevo, l'ausiliare Verden, come anche, per esempio, nel tempo perfetto, vi ricordate che c'era, l'ausiliare Abeno, Zain, in Linke Klammer, nella Rescite Klammer, va in participio passato, anche qui succede la stessa cosa, nella Linke Klammer, c'è l'ausiliare Verden, oppure Zain, nel caso in cui, il tempo della frase, sia al perfetto, più che perfetto, Ausiliare Verden, o Zain, declinato, ovviamente, poi, in Linke Klammer, fa tutto il resto della frase, Teca Molo, eccetera, eccetera, e poi, in Rescite Klammer, ci va il verbo lessicale, il participio passato, quindi, per esempio, dieses Buch wird, oppure, wurde mir von Michael geschenkt, quando il tempo della frase, al presente, al predere, invece, il perfetto, è più che perfetto, vuole, oltre che il participio passato, anche il Vorden, cioè, il participio passato, è il verbo Verden, quindi, dieses Buch ist, oppure war mir von Michael geschenkt Vorden, mi è stato regalato, mi era stato regalato, quando ci sono tre voci verbali, insomma, perché la resta Klammer, può ospitare, come avevamo già detto in passato, una voce verbale, quindi, come nel caso delle prime due frasi, dieses Buch, birt, wurde mir von Michael geschenkt, oppure, due voci verbali, geschenkt Vorden. Il passivo, con i verbi modali, con le subordinate, è più o meno, allo stesso ordine, di costituenti, però, vediamo insieme, dieses Buch, poi, verbo modale, in Minke Klammer, muss, oppure muste, mir von Michael geschenkt Vorden. Quindi, la differenza fra, un passivo semplice, un passivo con verbo modale, semplicemente, nella, nella Linke Klammer, in un passivo semplice, vuole il Verden, oppure ist, mentre con il verbo modale, vuole il muss. Quindi, dieses Buch, muss, o muste, mir von Michael geschenkt Vorden. Quindi, con i modali, c'è il verbo modale, declinato, alla Linke Klammer, la resta Klammer, e quel Verden, che va in genere, in Linke Klammer, passa alla resta Klammer, geschenkt Vorden. Vabbè, in ogni caso, se avete dei dubbi, se non sono riusciti a spiegare bene, voi potete sempre chiedere, non c'è alcun problema, assolutamente. Io cerco di usare colori, immagini, proprio affinché vi rimangano più intresse dei miei concetti. Però, può capitare che magari non mi salta a spiegare bene, quindi, sono aperta a qualsiasi chiarimento di dubbi. Poi, vediamo con le subordinate. Allora, anche qui c'è una distinzione tra presente e preterito, che vogliono due voci verbali, perfetto, più che perfetto, tre voci verbali. Allora, each voice chiaramente va in in forfeld, che poi si scende ulteriormente, in forfeld, each, vice, Linke Klammer. Poi, la marca di subordinazione, come abbiamo detto nella scorsa lezione, fa parte della Linke Klammer, das, e poi il resto della frase, mit, il fede, nella resta Klammer ci va, o geschenkt wird wurde, quindi il werden declinato, va comunque alla fine della frase, oppure geschenkt worden, istogar ausiliare sein, declinato, alla fine. In ultimo, con i verbi modali, in subordinata, vi sono tre voci verbali, di cui l'ultima, deve andare declinata, deve andare alla fine, quindi, ich weiß, dass mir, dieses Buch von Michael, geschenkt werden, muss, oppure muste, perché, vabbè, al perfetto, più che perfetto, non si usa quasi mai, quindi, già usarlo così, non è proprio semplicissimo, quindi, manteniamoci proprio, sulle cose più, più essenziali. Quindi, con i verbi modali, il werden, non sta più in link e clammer, ma sta in resta e clammer, declinato, coniugato all'infinito, ok? Mentre, quando ci sono tre voci verbali, come nel perfetto, è più che perfetto, di frasi passive, semplici, detto così, fra virgolette, cioè, senza verbi modali, il werden va in resta e clammer, come nelle verbi modali, però è borden, ed è coniugato al participio passato. Adesso passiamo ai verbi con preposizione, prima abbiamo visto, nach dem ea, mit dem rauchen, auf gehört, auf hatte. Quindi, per esprimere un inizio, o la fine di un'azione, si usa, beginnen, oppure anfangen, che vuole la dieresi, perché è un verbo forte, è anche separabile, seguito da mit, più dativo, oppure, quando si dice che si è smesso di fare un'azione, enden, oppure aufhören, sempre con mit, più dativo, quindi l'inizio e la fine di un'azione, hanno un verbo, che deve essere accompagnato da mit, più dativo, quindi, ich habe mit dem film begonnen, ho iniziato col film, oppure dem schauspiel, con lo spettacolo, ich habe mit dem film aufgehört, quindi ho finito, ho smesso con lo spettacolo, con i film, oppure, ich habe mit dem film, beendet, no? Poi, per esprimere il pensiero, cioè che si pensa a qualcosa, che si riflette su qualcosa, vi sono questi verbi, glauben, denken, sichern, oppure jemanden und rinnen, hanno più accusativo, allora, glauben significa credere, ich glaube an Gott, per esempio, credo in Dio, denken, ich denke an dich, penso a te, ich denke an dich, penso a te, poi, sichern, oppure jemanden und rinnen, e ricordare, sichern, ich erinnere mich, an Lucio Battisti, per esempio, mi ricordo di Lucio Battisti, oppure, ich erinnere, erinnere, meine Mutter, an, an die Hausfgaben, per esempio, quindi, ricorda mia mamma, di fare i compiti, vabbè, una frase molto scema, però, insomma, per, è per intenderci, nachdenken, juber, più accusativo, ah, ovviamente, i verbi che ho in preposizione, vanno, o col dativo, o con l'accusativo, quindi, non, non vi potete sbagliare, basta ricordare, ehm, il tipo di verbo, ehm, di punto al quale ci si trova, ehm, che, da che cosa vuole essere accompagnato, io, questa divisione che vi sto mostrando adesso, è frutto di, anni di università, in cui, ehm, io non, non riuscivo a ricordarmi bene, tutte le, tutte le preposizioni, con quale verbo si dovevano accordare, e ho, ho creato questi campi semantici, per cercare di ricordarmi quanto meglio possibile, e spero che accada la stessa cosa anche a voi, quindi, torniamo a nachdenken, e juber, significa riflettere su, su qualcosa, no? o su qualcuno anche, un altro verbo che esprime il pensiero, ich verme, für, oppure von, ehm, significa impazzire per andare pazzo per qualcosa, sbavare per qualcosa o per qualcuno, zweifeln, an più dativo, ehm, dubitare di qualcosa, quindi, glaoben vuole an più accusativo, zweifeln, dubitare, an più dativo, magari anche questo modo per, per potervi ricordare, oggi sono molto irrevieta, ma, siamo al mese di giugno, è in un tempo così, è proprio, so ein schlechtes wetter, es ist ein, kein Glück, allora, meno male che non dovevo scendere, allora, torniamo serie, torniamo a noi, schwermen, schwermen, volevo rilacciarmi a schwermen, schwermen più accusativo, essere pazzo di qualcuno, schwermen von, come troiemen von, significa fantasticare su qualcuno, quindi, quando uno si fa le sviolinate mentali, insomma, poi, lo scopo, di un'azione, si può esprimere con, bitten, streiten, kämpfen, um più accusativo, oppure, sich bemühen, sich bewerben, sich kürmen, um più accusativo, che significhano questi verbi, bitten, um, chiedere per ottenere qualcosa, che in latino si dice, peto, la cui petizione, poi, streiten, um più accusativo, è litigare, fare shop, no, quelle streiche, litigare, per qualcosa, tipo, i sette regni, litigano per il trono di spade, quindi, um più accusativo, streiten, um più accusativo, e kämpfen, um più accusativo, combattere, per esempio, per la patria, a favore della patria, no, poi, sich bemühen, impegnarsi, per ottenere qualcosa, per esempio, per superare gli esami, per imparare il tedesco, anche, sich bewerben, um più accusativo, è molto, tenetelo bene a mente, come verbo, perché significa, candidarsi per un lavoro, quindi, vi potrà servire molto, ich bewerbe miche, um, dieses job, um, einen, an, an job, bei Porsche, per esempio, poi, sich kümmer um, più accusativo, è prendersi cura, di qualcuno, di qualcosa, poi, per esprimere, per dire, questo testo, parla di, questo film, parla di, e questo, anche questo, vi può essere utile, per, quando volete spiegare, la trama, di un libro, di un film, di altro, es handelt, der film handelt, um più accusativo, oppure, es get, um più accusativo, si, poi, vabbè, ho messo, una citazione, di Adriano Celentano, si, Adriano Celentano, grazie per il, scusi, tornerò, cioè, ringraziare, scusarsi, sich bedanken, bei jemandem, quindi, essere grato, a qualcuno, per qualcosa, für etwas, quindi, ich bedanke, mich, bei meinem Vater, für seine Liebe, poi, sich entschuldigen, bei jemandem, scusarsi, con qualcuno, per qualcosa, e, il by, vuole essere eseguito, sempre da un, da un sostantico, che riguarda una persona, für, un oggetto, una situazione, una persona, jemandem, danken, für etwas, quindi, jemandem, è una persona, è qualcuno, ringraziare qualcuno, per qualcosa, poi, sentimenti, sentimenti, il ramo più basto, è il campo semantico, più vasto, di tutti, vabbè, è normale, quindi, Leben, Träumen, von, più dativo, come avevo detto prima, il fatto di Ciberman von, Leben von, vivere di, Träumen von, sognare qualcuno, sognare, fantasticare, come Ciberman von, più dativo, ovviamente, poi, Leiden, An, più dativo, oppure Unter, più dativo, che significa, soffrire, Leiden, An, soffrire, di qualche, malessere fisico, Unter, invece, non sopportare, qualcuno, quindi, diciamo, An è più, in senso concreto, Unter, in senso metaforico, figurato, poi, sich interessieren, für, più accusativo, interessarsi a, qualcosa, o a qualcuno anche, sich freuen, vuole una, doppia preposizione, auf und über, entrambi accompagnati dall'accusativo, quindi, fino a, Leiden, ci vogliono una preposizione, accompagnati dal dativo, da sich interessieren, in poi, con l'accusativo, sich freuen auf, significa, non vedere l'ora, che venga qualcosa, quindi, la gioia, per qualcosa, che avverrà in futuro, über, invece, per qualcosa, che è successo, che è accaduto, auf und über, achten, auf, più accusativo, sperare, oppure, stare attento a, a qualcosa, auf, più accusativo, sich amüsieren, divertirsi, sich verlassen, oppure, semplicemente, bauen, fidarsi, auf, più accusativo, poi, c'è anche quest'altro, von etwas, oppure jemandem, abhängig sein, che è la stessa cosa, di von jemandem, von etwas abhängig, dipendere da qualcosa, quindi, ich bin von Harry Potter abhängig, oppure, ich hänge von Harry Potter ab, allora, poi, la rabbia, sich ergen, sich aufregen, sich beklagen, sich beschweren, sono tutti i verbi, diciamo, che fanno riferimento, a una, a una mentela, a una, all'evidenzio, una manchevolezza, da parte di qualcuno, di qualcosa, quindi, c'è sempre quel buy, che vuole una persona, Uber, etwas, lamentarsi di qualcuno, lamentarsi con qualcuno, di qualcosa, arrabbiarsi, con qualcuno, di una situazione, no? poi, la paura, si esprime, si esprime in moltissimi modi, anche perché, è uno dei sentimenti umani, più elementari, più primitivo, più comun a tutti, si esprime in moltissimi modi, si esprime in moltissimi modi, quindi, per quanto riguarda, il campo semantico della paura, solo si, angstigen, vuole, non più accusativo, per il resto, tutto por, più d'accordo, angstaben, avere paura, e can temere, per esempio, quando, quando temi le api, i famosi binen, no? si schuten, è proteggersi da qualcosa, proteggersi da qualcosa, e si schuten, è tenere, poi, ci sono gli ultimi, aggettivi però, in questo caso, perché anche gli aggettivi, vogliono essere eseguiti da una preposizione, quindi, stolz sein, auf jemanden, esser, eh, sì, jemanden, esser orgoglioso di qualcosa, nergierig sein, auf, eh, jemanden, oppure, trac, esser orgoglioso di qualcosa, eifers, eh, es, eh, ich bin, eh, eh, eifersüchtig auf dich, sono geloso di dir, che simila neidisch, ich bin neidisch auf dich, sono invidioso di dir, di dir, böse sein auf jemanden, eh, ich bin auf dich böse, eh, mi comporto male, conti sono cattivo, te dengarer zimma, no? poi, eh, ich bin, eh, auf dich ärgerlich, sono arrabbiata con te, gespannt, eh, agitato, vabbè, penso che agitato, eh, voglia seguire, un, più una situazione, che non proprio una persona, sono agitato di qualcosa, no? ich bin gespannt auf etwas, poi, vi uten, zine, come ergerlich, chi ha arrabbiato, verbi con preposizione, le frasi subordinate, Allora, quando si vuole completare un concetto, introdotto nella principale, e se nella stessa si ha un verbo con preposizione, si deve usare questa particella, da, da, che segue una posizione che inizia per consonante, più che la virgola, la subordinata introdotta da das, o, 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 una subordinata implicita, con su più infinito, quindi, per esempio, morgen begin ich damit, meine Haus aufgaben zu machen. Detta come frase semplice, con sola, con la sola frase principale, si può dire, morgen begin ich mit den Haus aufgaben. Però, se vogliamo dire, se, se io voglio dire, inizio i compiti, allora, ich begin, morgen begin ich mit den Haus aufgaben. Se la voglio rendere come una subordinata, cioè, parlare, scrivere, o parlare in modo più articolato, si usa, morgen begin ich damit, meine Haus aufgaben zu machen. Inizio a fare i compiti. Invece, se la preposizione inizia, per vocale ci vuole il dar, semplicemente, che da juber, è brutto la pronuncia, invece, dar juber, da quella armonia, seguito, ovviamente, sempre dalla subordinata, esplicita e implicita. Quindi, in questo caso, ich freue mich darjub, das du mich gestern besuch hast. Detto come frase semplice, cioè, solo con la frase principale, ich freue mich jub, deinen besuch. Se la voglio rendere come una subordinata, mi rallegro che mi sei venuto a trovare ieri. Mi rallegro della tua visita. Mi rallegro del fatto che, sei venuto a trovarmi. Ecco, questa è la differenza sostanziale. Quindi, quando si vuole, quando in una frase principale, c'è un verbo con preposizione, e si vuole esprimere, si vuole completare il senso, tramite una subordinata, bisogna fare in questo modo, da più preposizione che inizia per consonante, o dar quando inizia per vocale. Per esprimere le opinioni, si usano queste espressioni, meiner meinung nach bis du scherl. Secondo me, tu sei bella. Quindi, ci vuole l'inversione verbo soggetto, perché questo meiner meinung nach va come ported. Aus meiner ansicht ist etwas, oppure jemanden, jemand, scusa, negative, positive, fortalhaft, eccetera. Quindi, secondo il mio punto di vista, aus meiner ansicht, questa cosa è positiva, negativa, vantaggiosa, è fantastico. Poi, se si vuole usare una subordinata, ich vertrete die ansicht, oppure den Standpunkt, das, eccetera, eccetera. Quindi, io, come dire, sostengo il punto di vista, secondo cui, eccetera, eccetera. Ich bin der Meinung, più semplice, ich bin der Meinung, oppure der Ansicht, das, sono dell'opinione, sono del parere che. Poi, se invece si vuole esprimere un'opinione a favore, o contrario a quella di un'altra persona, si dice, anders als der Autor, bin ich der Meinung, bin ich der Meinung, mit dema toa, nicht juberein, non sono d'accordo. Poi, un altro modo per dire, quello che mi convince di più, oppure di meno, è, mich, argomente, esprimere un'opinione a partita, esperienze personali, si usa, meine persönliche Erfahrung ist, das, eccetera, e si racconta l'esperienza, oppure, ich persönlich habe diese Erfahrung erlebt, ho vissuto personalmente, parlo per l'esperienza diretta, ecco. oppure, ich vermute, queste più, ipotesi, sì, perché in questa pagina ho messo anche le ipotesi, quindi queste due, queste due frasi riguardano, l'esprimere un'opinione a partita, un'esperienza personale, invece da ich vermute in poi, esprime l'ipotesi, ich vermute das, temo che, ipotizzo che, poi, könnte, könnten eine Rolle spielen, cioè qualcosa può, o potrebbero giocare un ruolo importante, vabbè, eine Rolle, rivestire un ruolo, poi, es besteht die Möglichkeit, dass, wie es la possibilità che, oppure, vermutlich, vielleicht, höchstwahrscheinlich, betontest das, ipoteticamente, forse, sicuramente, questo significa, eccetera, eccetera, oppure, möglicherweise ist die Ursache, folge des Ereignis, eccetera, eccetera, quindi, möglicherweise, è l'avverbio, che sostituisce il verbo modal, möglicherweise, quindi, o si dice, möglicherweise ist die Ursache, Ursache la causa, die folge, la conseguenza, des Ereignis, dell'evento, o poi si dice, die Ursache, oppure, die folge des Ereignis, ist, vielleicht, mag, zain. Adesso, è il momento degli ultimi esercizi, qui, dove si devono scrivere le parti del corpo, riportare, praticamente, fare il matching, tra numeri e parola, l'esercizio 2, coniugare, il passivo, con, secondo i tempi, presente, preterito, perfetto, preterito, perfetto, l'esercizio 3, con i verbi modali, bisogna fare il passivo con i verbi modali, come ad esempio, in rosso, e, adesso è venuto il momento, di, tirare le somme, di tutti, tutti gli obiettivi, che si sono raggiunti, grazie a questo corso. Allora, ciò che si può, avere ottenuto è, sapere esprimere le preferenze, riguardo a cibi, bevande, hobby, quando, mein Lieblings hobby ist, mein Lieblings essen ist, no? Poi, saper chiedere, dare indicazioni stradali, genzi, geradehaus, bizzum tur ampel, eccetera, saper formulare ipotesi, come abbiamo visto, poc'anzi, saper esprimere desideri e necessità, come, con i verbi modali, no? Ich will, ich möchte, ich hätte gerne, eccetera, saper esprimere sentimenti, vabbè, questo l'abbiamo visto, sempre, poc'anzi, saper conversare in luoghi pubblici, scuola, ristorante, supermercato, dal dottore, su argomenti di guida quotidiana, il tempo libero, il lavoro, la scuola, saper confrontare la grammatica, la fonetica e la fonologia tedesca con quella italiana, e non solo, perché a volte ho messo anche dei riferimenti alla mia, quella che io ritengo la mia lingua madre, in napoletano, saper riconoscere caratteristiche principali di alcuni generi testuali, perché abbiamo visto comunque la cartolina, la lettera, il diario, eccetera, conoscere alcuni luoghi e festività del mondo tedesco, vabbè, in questo caso, io personalmente ho contribuito non tantissimo, perché ho preferito inviarvi a fonti più attendibili, più complete, come per esempio i monumenti a Berlino, no? Poi, altri obiettivi raggiunti, secondo me, aver fatto un ripasso di sintassi e analisi del periodo in italiano, che non fa mai male, essere consapevole della semplice logica che si c'era in una lingua che sta come difficile, cioè il tedesco, e soprattutto, spero di avervi divertito, perché io sono nel parere che una lingua può essere studiata anche divertendosi, anche nella letteratura, ovviamente, può essere trasmessa anche tramite esempi ironici, come ho fatto in queste lezioni, quindi essere consapevole dell'importanza del divertimento e dell'apprendimento, perché si ama solo ciò che si conosce, e si ama ciò che ci fa divertire, ciò che ci fa pensare, non le cose meramente nozionistiche che rimangono lì in un mondo astratto che non si possono applicare in contesto, infatti ciò tenuto a illustrare dei luoghi di conversazione, delle situazioni nel supermercato, dal dottore, eccetera, eccetera, proprio affinché voi siate preparati su cosa dire e come dirlo in un contesto reale. perché comunque studiare la lingua deve avere una sua utilità, bisogna impararla non solo per una mera questione di cultura, di qualcosa di astratto, ma perché io possa parlare in un contesto estero. Quindi, adesso è il tuo turno, vorrei ricevere testi in tedesco con pensieri, suggerimenti, critiche costruttive riguardo a questo curso, perché è chiaro che essendo io alle prime armi con l'insegnamento, nonostante le lezioni private, vabbè, ma un conto è dare lezioni private e dopo scuola, un altro conto è certamente insegnare, mi fa piacere sapere se questo corso è stato all'altezza delle aspettative e quanto le abbia superate e vorrei che si usassero i verbi con preposizioni, le forme passive e le frasi subordinate, ma senza esagerare. Anche la semplicità è la cosa migliore, però se una persona vuole sich bemühen, vuole impegnarsi, meglio ancora. Riporto sempre i siti di riferimento e la mia mail tramite cui potete scrivermi. Auf Wiederhören!